Mi pregunte non è stata dirighi ma stanto arriva e parte per vista di naturalezza e medioambiente per lo che sta il ministro Arantz e mi apuntresi e poi comparti con il Parlamento un relato con ma so meno mei anni a passato per me il ministro avisa che l'hanno avviso il rapporto, un consejo in todo caso arriva tutte le problematiche e pressione e per vista la distruzione di naturalezza ocasiona dove l'adventure tourism, nel caso anche in specifico UTV con ATV e se è stato che è attraverso il rapporto che c'è, non che la comparti è stato qui con il Parlamento ma io si ho pregunte a chi deve, posso capire se ti ho pregunte se ti ho un'unica comunità se ti ho sentito a causa di un'unica comunità, se ti ho sentito a cura, se ti ho molesto, etc, etc, accident e in contestare una sola pregunta di me, se vede a passar, la riferi nel rapporto che non è avvisato quando ti vai reuni il gruppo in questione, non lo vai senti con noi, non si non entende nulla e adesso mi chiamo la domanda del ministro Arendt su questo ministro di naturalezza. Ora, è avisa che la domanda è il documento in quattro pagina qui, per il nostro lavoro, ma ripasano, e lo che ha risultato per me, come è passato, il ministro Presidente, ha avuto un consiglio, basta concreto, di parte di un candidato di departamento, e se ti dice, in tutto il caso, non è pubblicato, non è mai pubblicato, non è mai pubblicato, con l'accordo che vi, non è un mani nuovo, con l'accordo che vi si presenta, pensando che lo ejecuta, o implementa, e le ricomandazioni qui, o certo di ricomandazioni qui. E mirando, che il giorno passato, e più volte, c'è un accidente che si succede, che non ha avuto una conseguenza fatale, e non so, come il Presidente, a Bicinta, nella mesa, con il departamento, di altre altre, DEP, e più departamenti, in questione, per attenzare le problematiche, che lo ha avuto, e il rito, questo è un hobby difficile se non c'è per me è un punto per considerare la sicurezza per i proprii turisti per i proprii rienti che ha fatto il uso di G in centenares e anche per il tipo di turismo se vuoi chiamare così però a la vez ha fatto la destruzione e la molestia nella nostra naturalezza nulla di suggerimento come Wax che non poteva, introdurre come oratorio se ha fatto un controllo ma severo comunque, tu ripondo non mi non miro nada annunciate che ora qui che me la chieda in un rapport non mi è seita risaltare e mi è spera che ora qui che non stava come il Presidente trobata in una Mesa per regolare un che altro mi chiede qui che t'acchasse che su di me haia prometto che non mi haia un rapport con noi e non che la chieda nel papel